Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina della cronaca nera in apertura del telegiornale ci occupiamo dell'ennesimo furto di cavi di rame che si registra a Gela un'intera zona a ridosso del Castelluccio e al buio chiusura forzata per una stazione di servizio una zona estesa di Gela completamente al buio sconosciuti hanno trafugato una quantità ingente di cavi di rame creando disagi notevoli a chi in quella zona ci vive e ci opera sono senza corrente elettrica teatro dell'ennesimo episodio delinquenziale è l'aria che sorge sulla stadale per Catania a ridosso del Castelluccio i titolari di una stazione di servizio non sanno più a chi rivolgersi sono fermi, senza lavoro Eleni ha detto che ha bisogno di un po' di tempo perché il furto è stato grosso sono stati forse 10 km di cavi di rame che sono stati rubati ci hanno detto che ci vuole un po' di tempo del resto anche Eleni che prima si attivava subito perché intanto è un servizio pubblico ed è l'unico si può dire impianto della zona che rifornisce i clienti di GPL di Gela, di Niscemi, di Butera perché non ci sono altri impianti nella zona però anche Eleni non ha più l'interesse di una volta perché non vuole più noleggiare un gruppo elettrogeno le spese dice che sono pesanti pure per loro lo Stato non interviene abbiamo fatto le denunze ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza che sono molto attivi nel fare il loro lavoro però in questo caso i tempi sono lunghissimi Nella stazione di servizio rimasta senza corrente elettrica ci lavora anche un ragazzo lo stipendio era l'unico sostentamento per la famiglia adesso non c'è più neanche quello il rifornimento è chiuso e non ha alcun introito Come porti avanti la famiglia? A soffrire con qualche aiuto non lo so ferie, malattie Una situazione molto critica è abbastanza Parcheggio Arena senza pace lo vediamo dalle immagini ancora un incendio doloso l'ennesimo era già caduto anni addietro in quell'occasione furono bruciate alcune auto in sosta la scorsa notte invece chi ha agito ha completamente distrutto il quadro elettrico del parcheggio comunale multipiani a pochi passi dal palazzo di città l'impianto è completamente fuori uso un danneggiamento sul quale indagano i carabinieri del reparto territoriale ed un altro incendio la scorsa notte ha distrutto una fiat 500 di una casalinga in sosta in via Tripoli nei pressi del museo archeologico regionale anche per questo episodio indagano i carabinieri e adesso occupiamoci della confisca operata dalla DIA nei confronti di un imprenditore leggerese sotto chiave sono finiti beni per 3 milioni di euro intanto la polizia esegue numerosi controlli in diversi internet point e sale giochi imprese, quote, societarie, beni immobili ed immobili e rapporti bancari per un valore di 3 milioni di euro sono stati confiscati questa mattina dagli agenti della DIA di Caltanissetta al gelese Francesco Antonio Cammarata 56 anni per gli inquirenti l'uomo è legato alla famiglia di Cosa Nostra riconducibile al boss Giuseppe Piggio Madonia tra i beni finiti sotto chiave c'è la cava di Contrada Bulala il decreto di confisca ai sensi della normativa antimafia è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta a sezione misure di prevenzione a seguito della proposta avanzata dal direttore della DIA Nissena secondo quanto appurato dalle indagini Camarata titolare a Gela della cava di estrazione di materiali inerti e di un'impresa per il trasporto e la posa degli stessi è risultato a disposizione e in rapporto d'affari con l'organizzazione mafiosa a cui ha trasferito nel tempo ingenti disponibilità finanziarie attraverso l'illecito sistema delle sovrafatturazioni di forniture e o trasporti in cambio al Camarata veniva garantito di acquisire attraverso la forza di intimidazione del sodalizio mafioso posizione dominante e di esclusivo controllo nel settore nevralgico delle forniture e del trasporto dei materiali inerti diffusamente impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e private anche al di fuori della provincia Nissena e la polizia di Gera ha eseguito numerosi controlli in diversi esercizi commerciali del territorio bar, compro oro, sala giochi ed internet point il bilancio è stato di un'ordinanza di chiusura di una sala giochi abusiva 5 esercizi commerciali controllati 47 le persone identificate e 8 le infrazioni elevate in particolar modo è stato riscontrato che un gelese di 35 anni ha gestito senza licenza del questore una sala pubblica da gioco dentro il locale inoltre gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente circa 10 grammi di hashish divisa in dosi lo stupefacente è stato sequestrato e sono in corso indagini per individuare il possessore della sostanza vietata durante l'operazione è stato proposto a carico di una 76enne il divieto di detenere armi e munizioni perché era privo della certificazione medica prevista attestante il requisito psicofisico mentre un modicano di 85 anni residente a Gela è stato segnalato per non avere comunicato la variazione del luogo di detenzione delle armi denunciate cambiamo argomento incontro ieri con il deputato di Forza Italia Stefania Prestigiacomo per fare il punto della vicenda Eni Gela l'hanno avuto i consiglieri comunali Salvatore Sammito Guido Siragusra Salvatore Farruggia e Salvatore Gallo il deputato forzista ha detto Salvatore Sammito ha già deciso di presentare una interrogazione alla Camera che riguarda sia il caso Gela sia quello di Priolo essendo comunque lei un esponente dell'area del Siracusano ha chiesto alla Prestigiacomo di poter ottenere copia degli atti ufficiali che riguardano la trattativa avviata con Eni compresi il protocollo di due anni addietro e l'accordo di programma della scorsa estate abbiamo già provveduto ha detto Sammito a trasmettere l'intera documentazione in questo modo si cerca ogni soluzione utile pur di alzare il tono della mobilitazione anche a livello nazionale i viaggi della speranza traditi l'ennesimo viaggio verso la capitale verso quel Mise che dovrebbe fornire le notizie che tutti i gelesi si attendono e che invece ancora non arrivano e nemmeno sono arrivate mercoledì scorso nel corso dell'ultimo incontro ministeriale Gela che aspetta e spera mentre il tempo passa e la città continua a spegnersi questa sera se ne parlerà ad Agorà che come ogni venerdì torna sui nostri teleschermi con il conduttore ed editore del rotocalco settimanale Franco Gallo ospiti in studio a dibattere di un tema che oramai è divenuto il tema principale di Gela appuntamento dunque alle 21 su canale 10 con una nuova puntata di Agorà i continui ritardi che riguardano l'Utin e la mancata attuazione della legge regionale della 6 febbraio scorso che prevede nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale sono stati gli argomenti al centro dell'audizione di ieri in la stessa commissione sanità all'assemblea regionale siciliana il presidente della commissione Nello Di Vascuale ha incontrato alcuni componenti del comitato per lo sviluppo dell'area gelese presente anche il deputato all'assemblea regionale siciliano Giuseppe Arancio la conversazione ha detto Filippo Franzone portavoce del comitato è stata molto articolata ed interessante toccando più punti e problematiche inerenti la condizione attuale del nosocomio gelese utin senologia pronto soccorso servizi inerenti l'oncologia ed altro ancora alla fine dell'incontro è stato convenuto con il presidente Di Giacomo la necessità conclude Franzone di svolgere una seduta della sesta commissione sanità a Gela entro la fine di marzo per attenzionare le criticità e le prospettive dell'ospedale Vittorio Emanuele Una ordinanza contro la pubblicità cartacea selvaggia è stata firmata dalla sindaco di Gela Domenico Messinese vietati volantinaggi da fissioni che deturpano il decoro urbano dei plan ed altro materiale informativo promozionale potranno essere distribuiti solo nelle cassette della posta o consegnati direttamente a mano nelle abitazioni private nei locali pubblici o nelle attività commerciali e quanto stabilisce come dicevamo l'ordinanza contro la pubblicità cartacea selvaggia firmata dal primo cittadino gianese il volantinaggio non sarà messo ancora meno tra gli automobilisti in prossimità ed in corrispondenza degli incroci l'ordinanza infatti oltre alla tutela del decoro è finalizzata anche al mantenimento della sicurezza urbana per quanto riguarda invece le affissioni saranno sanzionati i manifesti apposti sui pari dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale su alberi e altri posti o strutture non autorizzate le multe saranno elevate sia alle aziende commissionarie che al personale impiegato per la pubblicità per le prime sono previste sanzioni da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello Stato e dei luoghi mentre chi distribuisce volantini andrà incontro a multe dalle 10 alle 60 euro sono abbassati pochi minuti di pioggia questa mattina per rendere ancora una volta pericolosa la stradale 115 Gera Licata in direzione Manfria oggi si è verificato un incidente autonomo un uomo di 30 anni a bordo della sua auto una Citroen è finito fuori strada all'uscita da una curva ribaltandosi su un fianco le condizioni di salute dell'automobilista fortunatamente non sono gravi a rischio gli stipendi dei dipendenti dell'ex provincia di Caltanissette i lavoratori dopo i ritardi nell'accreditamento della mensilità di gennaio per mancanza di liquidità nelle casse dell'ente potrebbero non percepire lo stipendio di marzo e dei mesi successivi a lanciare il grido d'allarme il segretario generale della CISL Funzione Pubblica Gianfranco Di Maria i 20 milioni di euro stanziati dalla regione siciliana per le nuove province infatti non sarebbero sufficienti per garantire il pagamento degli stipendi e dei servizi erogati dall'ente dunque si paventa il rischio del dissesto finanziario che i sindacati in sinergia cercheranno di scongiurare sollecitando l'approvazione del testo definitivo della legge che abolisce le province e istituisce i liberi consorsi dei comuni probabilmente dal prossimo mese sono a rischio gli stipendi tant'è che i ragionieri generali sappiamo hanno già inviato delle note alla Corte dei Condi per comunicare questa situazione ma come stavo dicendo prima quello che ci dispiace è che questa cosa stia passando in silenzio anzi è come se effettivamente quella famosa pubblicità sui fanulloni si stesse attuando ma è sotto l'occhio di tutti i cittadini che le strade sono assolutamente impercorribili le scuole addirittura qualcuno è rimasto senza riscaldamento l'assistenza ai portatori di handicap non può essere assicurata per tutto l'anno cioè i disservizi che sono propri ai compiti della provincia incominciano a evidenziarsi quindi il famoso risparmio con la riforma delle province pare non ci sia stato ma non solo adesso ci viene in aiuto pure la Corte Costituzionale che con una sentenza la numero 10 di quest'anno da seppure proposta dalla regione Piemonte da una sferzata a queste a questa riforma una riforma mal fatta senza avere prima previsto dove devono andare i dipendenti e quali sono le competenze che devono essere trasferite siamo secondo me nel caos più assoluto ma più del caos il silenzio il silenzio dei cittadini che non hanno questi servizi e che ritengono che non ce li abbiano perché noi non vogliamo lavorare non è assolutamente così è quello che il prelievo forzoso l'anno scorso era 6 milioni quest'anno è 12 milioni di euro questi 12 milioni di euro non vengono sottratti allo stipendio del personale vengono sottratti ai servizi resi al territorio si darà domani alle 9.30 nei locali della chiesetta San Biagio a Gela il convegno dal titolo crisi finanziaria è possibile via l'uscita l'iniziativa porta la firma di Praesidum in collaborazione con le associazioni di categoria Confesercenti Confocommercio Casa Artigiani saranno presenti i presidenti delle associazioni sindacali interverranno tra gli altri Domenico Raneri revisore legale ed esperto in diritto bancario e l'avvocato Salvatore Psaila al convegno saranno presenti anche il sindaco Domenico Messinese ed il vice sindaco Simone Siciliano assessore allo sviluppo economico passa il tempo e cambiano le mode anche nelle foto ricordo degli anni scolastici si registrano infatti novità come quella della foto tema scelta dagli alunni della liceo classico Eschilo di Gela ogni classe ha adottato un tema per la foto ricordo dell'anno 2016 e gli alunni si sono presentati a scuola con abbigliamento ed acconciature adeguate a rappresentarlo c'è chi ha attinto ispirazione dal mondo del calcio chi da quello del cinema e chi infine dal mondo classico foto allegre e divertenti che costituiranno un piacevole ricordo per il futuro il dirigente scolastico Giochino Pelitteri all'oscuro della scelta degli alunni ha accolto con piacere la novità considerandola un momento di espressione della creatività studentesca ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità rieccoci seconda parte del telegiornale per gli ultra 65 anni ed i portatori di handicap gravi che hanno fatto richiesta di assistenza domiciliare è stato prorogato al prossimo 3 marzo il termine per presentare all'ufficio del protocollo del comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'ISEE l'indicatore della situazione economica equivalente in un primo momento le scadenze erano state fissate allo scorso 12 febbraio la mancata integrazione della documentazione ha spiegato l'assessore ai servizi sociali del comune di Gela l'Icia e Bela invaliderà l'istanza inoltrata per fruire del servizio di assistenza domiciliare mediante il voucher sociale dal primo marzo prossimo sarà sospeso il servizio di imputazione delle fatture elettroniche direttamente dalla sito istituzionale del comune di Gela tutte le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante ricorso a software di terzi che provvederanno al normale inoltre al sistema di interscambio è stata scelta come testimonial di legalità dalla guardia di finanza Miele la cantante nissena che ha spopolato a Sanremo giovani sarà ospite con un messaggio video registrato alla grande giornata della legalità organizzata al teatro Regina Margherita per il 15 di marzo dal comando provinciale delle fiamme gialle il messaggio indirizzato ai giovani fruitori di musica contro la pirateria è stato registrato al comando provinciale di Caltanissetta dove sono stati ammessi anche giornalisti per assistere e scambiare un paio di battute con l'artista che ha regalato anche un live di due canzoni che saranno ovviamente trasmesse tramite un video wall nella giornata dedicata ai giovani studenti ovviamente non è mancato il ritornello di Mentre ti parlo accompagnata dal suo federe chitarrista del maestro per primilia in realtà quella di miele alla guardia di finanza è stata la prima uscita ufficiale dopo Sanremo dinnanzi alla stampa io parlo veramente perché mi trovo in prima persona ad essere chiamata in causa perché comunque la musica in generale forse è vista come non lo so non come comprare una pizza purtroppo il fatto che venga scaricata legalmente permette a chi vuole fare questo mestiere di poterci vivere e quindi vorrei parlare come una ragazza e fare capire ragazzi io voglio una passione voglio fare questo nella vita vi prego di sostenere la musica e considerarla come qualsiasi altro bene noi ci teniamo a dare lustro a quelli che sono i personaggi della provincia in secondo luogo perché risponde esattamente al messaggio che vogliamo lanciare si dice spesso che ho sentito dire che la musica è un bene come gli altri io oserei dire che è qualcosa di superiore perché sfido chiunque a vivere in un mondo senza musica pensare un mondo senza musica per me è quasi impossibile allora noi dobbiamo oltre che il rispetto anche il ringraziamento a questi artisti che ci permettono di di essere contornati dalla musica è di vivere determinate emozioni perché l'uomo è fatto soprattutto di emozioni e il nostro ringraziamento lo dobbiamo anche attraverso il rispetto delle loro opere che sono opere loro che hanno creato loro e dietro c'è tanto sacrificio c'è studio c'è lavoro per cui ogni volta che noi scarichiamo illegalmente un brano è come se chiedessimo a qualcuno di andare a lavorare gratis non penso che nessuno sia disposto a lavorare gratis e non vedo perché lo debbano fare gli artisti che ci regalano tanto in termini di emozioni la Confesercenti dall'area sud della provincia di Caltanissetta diretta da Rocco Pardo informa agli utenti che il termine di pagamento per il rinnovo degli abbonamenti sia e sarà prorogato dal 28 febbraio al 18 marzo inoltre per tutti coloro che fossero interessati ad usufruire dello sconto per il rinnovo dell'abbonamento possono rivolgersi presso l'ufficio di Corso Vittorio Emanuele al Civico 45 e ora la nostra consueta rubrica quotidiana in breve domani alle 11 l'associazione di promozione sociale Ship Lab di Gela presenterà ad una rete di possibili partner il progetto Nice to Pitch You una competizione di idee che mira di incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela la presentazione si terrà presso Palazzo Mattina in Corso Vittorio Emanuele 411 durante l'incontro saranno approfondite alcune tematiche riguardanti l'innovazione e benefici di sviluppo territoriale oltre ad una panoramica sui vantaggi fiscali derivanti dall'investimento su imprese innovative e start-up l'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti riguardanti le seguenti aree tematiche tecnologia smart city turismo sociale agroalimentare arte fino al 17 marzo prossimo si svolge a Gela presso i locali della Chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldia dal titolo la sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico affrontando temi concreti per la gestione progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania e esperti del settore la FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai Luce alla Pace a cura della past presidente Angela Incardona il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione al dialogo interculturale il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse tra cui carboncino pennarello matita in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno i disegni migliori sei per ogni scuola dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente i tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo sono previsti premi in denaro proseguono gli appuntamenti in occasione della 82esima stagione concertistica gelese domenica 28 febbraio prossimo alle 19 al palazzo Pignatelli concerto del trio Echi Armonici con Maria Provenzano al pianoforte Angela D'Amato al flauto e Giuseppe Cumbo all'Oboe l'iniziativa porta la firma dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra E' stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico le dune gelesi promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolta agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto CD in formato JPEG con dimensioni minime di 3 MB e massime di 10 MB La sottosezione dell'unità al CD Gela in occasione delle festività di Pasqua effettuerà la vendita delle uova di cioccolata appuntamento domani e domenica 28 febbraio prossimi nelle varie piazze e dinanzi alle parrocchie Una notizia di sport c'è anche una squadra della Gymnastics Club di Gela diretta da Walter Miciche e della sezione cheerleading che parteciperà ai campionati italiani le gare si svolgeranno al Palazzetto di Novara da oggi a domenica 28 febbraio gli atleti gelesi che parteciperanno sono Biagio Incardona e Claudia Cascino Sofia e Giulia Di Dio Beatrice Tripodo e Giulia Maria Nasonte l'istruttrice e Simona Scerra La pagina dello spettacolo sono due film in programmazione al Cineteatro Antitoto di Macchitella Gela alle 17.30 Joy e alle 19.30 e alle 21.30 il Labirinto del Silenzio domani alle 21.15 e domenica 28 febbraio alle 17.15 invece al Teatro Comunale Eschilò Flavio Brazzaventre Guia Ielo ed Agostino Zumbo porteranno in scena la bismetica domata per informazioni ci sono due numeri telefonici 0933 91 1892 e 345 58 80 580 con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo l'informazione di oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti